Profonda preoccupazione per il susseguirsi di eventi correlati alla diffusione del coronavirus a livello nazionale, con particolare riferimento alle problematiche correlate alla vendita dei prodotti agricoli salernitani, viene espressa dal presidente della CIA Agricoltori Italiani di Salerno, Gaetano Pascariello. Si registrano in questi giorni, spiega una nota stampa della CIA di Salerno, immotivate ingenti flessioni degli ordini di prodotti agricoli della nostra provincia, che stanno mettendo in serie difficoltà le aziende e le organizzazioni di produttori che operano nel settore. Questi eventi, attesa la non trasmissibilità del virus con gli alimenti e con i prodotti agricoli, si configura come una scorretta strategia per danneggiare le nostre produzioni a favore di altri. Purtroppo, continua Pascariello, i prodotti agricoli, anche già contrattati, che non vengono venduti in questo periodo, rappresentano una perdita pesantissima per ogni azienda agricola, irrecuperabile nel breve termine. Analogo discorso vale per l'attività agrituristica, che è messa gravamente in ginocchio dall'annullamento di prenotazioni e dal calo delle richieste. A questi problemi si aggiungono quelli creati, aggiunge Pascariello, da una cattiva gestione del vigente programma di sviluppo rurale, che con ritardi e anomalie di gestione amministrativa delle pratiche presentate, ha causato numerose aziende gravi incertezze nei programmi di investimento e nello sviluppo generale del settore primario della nostra provincia. Per questo, la CIA Salerno chiede con forza che si mettano in campo tutte le risorse disponibili per consentire alle aziende di sopravvivere e mantenere i livelli produttivi ed occupazionali nella nostra provincia. Facendo proprio le proposte della CIA nazionale, continua la nota stampa, avanzate anche in occasione dell'incontro tra governo ed associazioni dello scorso 3 marzo, la Confederazione Salernitana evidenzia la necessità di attuare in tempi brevi tutte le misure idonee a scongiurare una crisi che potrebbe incidere in modo irreversibile sulle aziende agricole del Salernitano. Tra queste, le più immediate riguardano la possibilità di differire i pagamenti contributivi e fiscali a carico delle aziende agricole e l'anticipazione dei contributi PAC-PSR da parte dell'organismo pagatore. Occorre inoltre avviare immediatamente, continua la nota stampa della CIA di Salerno, una campagna informativa sul sistema paese, puntando sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea e paesaggio. La CIA inoltre annuncia che per la tutela delle proprie aziende costituirà un centro di ascolto permanente a cui far pervenire ogni segnalazione di indicazione ed agirà come cassa di risonanza per far arrivare agli organi di governo regionale e nazionale ogni istanza finalizzata alla tutela dei propri iscritti. Grazie Grazie